Siamo già al quarto round di questa stagione del My Team, prima stagione per Alas Sala alla guida della One in One Racing Team. Wow! Yo Willers, bua a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Non dobbiamo aggiungere nient'altro, vi ho già detto tutto, quarto round e dopo l'ultimo Gran Premio, naturalmente, prima di avere spoiler, se dovete recuperare il terzo episodio, il terzo round di questa prima stagione, il GP di Monaco andate a cliccare in questo momento nell'angolo in alto a destra, dicevo, dopo il terzo round che è stato assolutamente disastroso e non avevamo dubbi su questo, dobbiamo assolutamente recuperare, cercare di confermare un buon bottino di punti per confermarci a metà classifica e non essere in lotta laggiù con le varie Williams, Alfa, Romeo e Ass per le ultime posizioni della gradatoria. Vedremo cosa saremo in grado di fare, intanto voi naturalmente lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Importante, seguitemi su tutti i miei canali social, trovate i link dappertutto, dal banner del canale YouTube, in tutti i social troverete i link per tutti gli altri social, i vari Reddit, Instagram e Twitter. Detto questo, vi ringrazio in anticipo per la visione e vi do appuntamento al termine del video per i saluti finali. A più tardi, ancora. Buona visione. Ciao ragazzi! Eccoci, nella nostra dashboard inizia il cammino verso il weekend dell'Azerbaijan, quarto round della stagione. Per noi tanti compiti dal punto di vista gestionale da dover portare avanti. Iniziamo con le attività. Abbiamo ben nove giorni liberi da gestire prima del weekend di gara. Iniziamo con un programma di quattro giorni pubblicità, sponsor, monoposto, che ci garantisce un aumento di fama e anche un piccolo introito in termini di denaro. Abbiamo allora altri cinque giorni liberi da dover gestire. Proprendiamo per un programma di tre giorni aggiornamenti, attrezzature e motopropulsore, mentre i restanti due giorni scegliamo programma, team building, telaio. Detto questo, abbiamo un messaggio da parte di Alex che ci avvisa che abbiamo caricato troppo di carburante la vettura nell'ultimo Gran Premio, ma l'ultimo Gran Premio era quello di Monaco e non l'abbiamo terminato. Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti della vettura, abbiamo un aggiornamento completato per quanto riguarda l'aerodinamica. Possiamo svilupparne uno nuovo. Proprendiamo per bracci delle sospensioni ottimizzati. Arriverà in 29 giorni, spendiamo quasi tutti i punti risorsa che avevamo da parte. Possiamo inoltre scegliere anche uno sponsor secondario. In questo caso proprendiamo per Highland, che ci propone come obiettivo sorpassa cinque diversi piloti durante una gara. È facilmente raggiungibile. Per quanto riguarda le strutture, andiamo a migliorare il reparto telaio. Proprendiamo per il controllo qualità, spendiamo 1.200.000 dollari. Dilemma Mazzuscita che vuole spendiamo più soldi nel reparto telaio. Approviamo. Spese risorie non potevamo fare altrimenti. Sviluppo non riuscito dell'MG UK, quindi reparto resistenza. Dobbiamo andare a risvilupparlo. Abbiamo 221 punti risorsa, ne spendiamo 214. Siamo fortunati in questo caso. E ora possiamo tranquillamente scendere in pista per il weekend di gara. Siamo nel nostro PC. Andiamo. Prima di tutto a leggere i messaggi. Anteprima weekend da parte di Andrea. Aggiornamenti migliorie. Li abbiamo già visti. Aerodinamica arrivato. Non arrivato in resistenza. Previsioni del tempo asciutte. E ora. Non perdiamo altro tempo. Scendiamo in pista per le prove libere. Scendiamo in pista per le nostre prove libere. Iniziamo con il meteo che ci dice che la terza prova libera sarà sotto la pioggia. Quindi dobbiamo sbrigarci con i nostri programmi e cercare di portarli a termine nelle prime due sessioni. Visto che qualifiche gara saranno ad asciutto. Qualche problema con la gomma più dura inizialmente scodata. E problemi in accelerazione al posteriore. Ma poi abbiamo migliorato nettamente il setup della vettura. Ci siamo trovati molto molto bene. Siamo riusciti a completare tutti i nostri programmi. Tutti i catalizzatori di sviluppo. Quindi buonissimo livello. La nostra prova libera. Tanti punti risorso. 800 punti. 600 noi. 200 mazzuscita. Totale 927. Tutti i catalizzatori di sviluppo applicati. Come vi ho detto in precedenza. E anche la fama della scuderia cresce. Saliamo al sesto livello come scuderia. Poca la percentuale di crescita per sala e per mazzuscita. Ora le qualifiche. Iniziamo il Q1 con buone sensazioni sulla vettura. È un 1.41.371 che inizialmente mi sembrava un buon tempo. Ma poi siamo tornati ai box. Ci siamo messi tranquilli seguendo i giri degli altri. I tempi che facevano segnare gli altri. Pian piano abbiamo perso posizioni. Non mi sentivo più sicuro perché avevamo 5 decimi di vantaggio soltanto sulla zona di eliminazione. Iniziamo il secondo giro e purtroppo ci troviamo Stroll. Proprio all'inizio del giro di lancio ci aiuta con la scia. Ma purtroppo in curva 1 dobbiamo superarlo. Ci diamo fastidio a vicenda. E guardate siamo già due decimi sotto dopo una curva fortunatamente benissimo. L'ultima fase. Andiamo a migliorare di oltre tre decimi e vediamo la nostra posizione in gradatoria. Siamo in decima piazza. A un solo secondo da Ricciardo che è alla vetta delle qualifiche 1. Sfortunatamente mazzuscita eliminato in diciottesima. Ma scendiamo in pista per il nostro Q2. Iniziamo con la gomma media e facciamo un giro discreto 1.41.5 che secondo me però era molto migliorabile. Inizialmente siamo in decima piazza ma purtroppo abbiamo dietro dei piloti che devono migliorarsi assolutamente. Quindi scendiamo nuovamente in pista con la gomma soft. Sensazioni molto molto migliori con la gomma più morbida dell'8. Diciamolo lo sapevamo sin da subito che avremmo migliorato quasi otto decimi il miglioramento e vediamo se siamo riusciti a passare nel Q3. E sì ottava piazza passiamo nel Q3 quindi partiremo con quella gomma soft alla partenza. Non è un vantaggio quello ma per la prima volta siamo nell'ultima sessione di qualifica. Possiamo subito scendere in pista decidiamo di scendere subito in pista con pista abbastanza libera. E ora godiamoci il giro con gomma soft per vedere se riusciremo a smuoverci da una più che probabile P10. Non è un scenarioике di se riusciremo aramởità per vedere se riusciti a passare in sia confrontada a una piñenda internazionale. Sobre Seure, a fare l'erabeto dell'anna. Questa è un scenario più importante. Però, a seconda maggio si è molto più importante. Cosa impianti di un'anno poi 타? Ci sono sempre tutte le delle date fette. Possiamo, sucfrir portate il mercato della gomma soft per vedere se riuscaka il maggiore trenco terminelle. Cosa puoi uscita evitare un scontrago sin guerra Stradifo sowolto piazza, e s ridingendo leHerBio ordine che perdono dopo delle cose che valenti, Attiviamo il DRS, giro Magnifico da parte nostra Pulitissimo, andiamo a chiudere Che dire, felicissimo per il giro Non ha piazza in griglia La qualifica a nostro vantaggio Nella rivalità contro Lance Stroll Ci riavviciniamo, siamo in svantaggio 6 a 3 sul pilota dell'Aston Martin Accresciamo ancora la nostra fama E la fama della scuderia Quindi possiamo Sperare bene per questa gara Buon pomeriggio e benvenuti a Baku Nel 2017 questo circuito è stato teatro di una delle gare più movimentate della storia recente Con polemiche sulla safety car, sorpassi all'ultimo istante e un podio storico per la Williams e Lance Stroll Vediamo cosa succederà quest'anno È ora del Gran Premio dell'Azerbaijan Con 20 curve e una lunghezza di 6 km Il circuito cittadino di Baku Nel cuore della capitale dell'Azerbaijan È un'autentica prova di resistenza Pazienza e precisione Per qualsiasi pilota Le curve a 90 gradi attraverso il settore 1 Portano a uno scatto in salita All'inizio del giro della città vecchia Per poi entrare sul rettilineo record Da 2,2 km a tutto gas Attraverso il settore 3 verso il traguardo Manca poco all'inizio della gara E qui con me c'è il mitico Luca Filippi Luca il Gran Premio di oggi non è dei più semplici Cosa ti aspetti di vedere già dalla curva 1? La partenza è il momento più difficile dal punto di vista nervoso C'è sempre il rischio che qualcuno commetta errori O prenda male le distanze Considerato l'affollamento di auto in uno spazio di pochi metri Se gli incidenti sono così rari Dobbiamo solo ringraziare il talento dei piloti Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri E oggi è in pole position E Valtteri Bottas prende posto accanto a lui Proseguendo lungo la griglia queste le posizioni Perez, Hamilton Lando Norris e Ricciardo Leclerc, Sala Gasly e Yuki Tsunoda Fernando Alonso Vettel Kemi Raikkonen e Ocon Giovinazzi Stroll Carlos Sainz Inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza Presa in precedenza E Nobuaru Matsushita Russell Mick Schumacher Latifi E Nikita Mazepin Manca poco E le cinque luci del semaforo presto si spegneranno Dando il via al Gran Premio di oggi Eccoci in griglia di partenza Partiamo dalla P8 Grazie alla penalità inflitta a Carlos Sainz Che doveva partire dietro di noi Quindi una posizione già guadagnata prima del via Non sarà per nulla facile perché lì in curva 1 Si tende a rischiare Lì a tende spesso a rischiare Quindi dovremo essere molto cauti E molto molto attenti a proteggere le nostre gomme soft Per i primi giri che non dureranno tantissimo Quindi non sarà per nulla una partenza facile Andiamo alla nostra strategia di gara Vedete le nostre gomme soft le terremo per cinque giri Probabilmente addirittura quattro Dipende da come ci troveremo con le nostre gomme Poi due set di gomme medie per terminare la gara Strategia due pit stop Impossibile direi Riuscire a portare le soft ad un buon livello Per poi montare le hard e andare fino in fondo Con un solo pit stop C'è da dire che comunque non è così difficile sorpassare qui Però se si rimane bloccati dietro macchine lente Nel settore centrale Allora si rischia di perdere veramente tanto Andiamo a vedere l'assetto della vettura Direi di andare a ritoccare l'ala anteriore Soprattutto per il primo stint con le gomme soft Probabilmente anche per il secondo con le gomme medie Preferisco avere un po' più di grip Perché rischio di perdere tantissimo in uscita dalle curve Se non effettiamo le curve al meglio Quindi questo punto in più sull'ala anteriore ci può aiutare Per quanto riguarda i freni Andiamo per 53% Perché la nuova patch ha modificato Il bilanciamento dei freni Quindi è meglio non esagerare Con una percentuale troppo all'anteriore Si rischia veramente tanto il bloccaggio Detro questo torniamo indietro E siamo pronti alla partenza Ricordatelo Dobbiamo essere cauti Ma proviamo a guadagnare il più possibile Mi stavo dimenticando Mi stavo dimenticando Meno male che ho guardato Dobbiamo modificare anche il carico di carburante Meno male Perché comunque non abbiamo così tanto consumo Direi di abbassare all'incirca 26.4 Per essere tranquilli durante le varie fasi di gara Adesso ci siamo Torniamo indietro e partiamo Cerchiamo i giusti giri motore Per una buona partenza Per un buono scatto dalla nostra posizione in griglia Non male Allo spegnimento delle luci Ci infiliamo sull'Eclerc Che ci stringe E non ci permette di fare la giusta linea Qualcuno ci sta provando da dietro A metterci in crisi Un'Alfa Tauri Quella di Gasly Ma riusciamo a difenderci Sento la macchina piuttosto ballerina Al momento Attaccano prestissimo in curva 3 E ci riavviciniamo a Charles-Eclerc Leggermente bloccaggio al posteriore Vado a 54% Per il momento Sono contento di aver aumentato l'ala anteriore Perché sento la vettura Abbastanza bene Ma non perfetta così Quindi immagino che Sarebbe ancora peggio Con 8 Sull'ala anteriore Come in qualifica Molto molto cauti In queste prime fasi di gara Soprattutto sull'acceleratore Sento il posteriore Piuttosto ballerino Infatti abbiamo già perso tantissimo Da Charles-Eclerc Ora spingono A tutta la davanti E ora siamo sotto pressione Da Gasly anche Che a 4 decimi Dobbiamo sfruttare la batteria Per difenderci Per ora riusciamo a difenderci Prendiamo la scia Di Charles-Eclerc Terminiamo il primo giro Leggermente lunghi In curva 1 Curva 1 Ma ci difendiamo Dobbiamo stare più incollati Possibili Alla Monegasco Della Ferrari Che è sulla nostra stessa Strategia Ma soprattutto Per Utilizzarne il DRS Farci Trascinare Davanti poi abbiamo Anche Ricciardo Con la stessa Nostra strategia Mentre tutti gli altri Davanti se non sbaglio Montano Gomme medie Qui sbagliamo leggermente Infatti siamo fuori dal secondo Sul Charles-Eclerc Non è facile In questa prima fase Dobbiamo Assolutamente Sfruttare Il nostro ERS Per rimanere incollati Ma anche qui al castello Quanto sotto sterzo Nonostante l'ala anteriore a 9 E ora saremo sotto Grande pressione Da parte di Pierre Gasly Gasly vicinissimo dietro Ci prova col DRS Ci proverà col DRS Mentre noi stiamo perdendo Tanto anche Dalle Clerc Proviamo a metterci A centro curva Treniamo forte Prova l'incrocio Il pilota dell'Alfa Tauri Un po' di sovrasterzo In uscita In accelerazione Ma Riusciamo a difenderci Sto andando super cauto Sull'acceleratore Per Risparmiare Le gomme posteriori Sto già perdendo L'aderenza Jeff Siamo super cauti Siamo riusciti A guadagnare Qualcosina Su Gasly Vediamo Se riusciremo A difenderci Qui in fondo Usiamo Tutta la batteria Purtroppo Questa fase di gara Molto pesante Per Per la nostra Gestione RS 0% Sulla batteria Questo è il giro In cui dovremmo Fermarci Sto pensando Se andare lungo Al settimo giro Tenendo questo passo Sarei anche felice Vorrei evitare Il traffico Quindi sto pensando Di andare però Di andare lungo Al settimo Quindi due giri in più È scomparso Tsunoda È scomparso Tsunoda Virtual safety car Tsunoda fuori Dalla sessione C'è stato un incidente Che ha causato Un alto numero Di dettiti Safety car Safety car Si fermeranno tutti Riduci la velocità Il delta è troppo basso E rischiamo una penalità Rallenta immediatamente È il momento buono Per il pit stop Rientra ai box Alla fine di questo giro È capitata nel momento giusto E questo ci avvantaggia Su tutti quelli Con gomme medie Spingiamo Per cercare Spero che si fermi Anche Matsushita Sembra di sì Sì si ferma Anche Matsushita Giustamente Rimaniamo bloccati Però rientriamo Se non sbaglio Nella Troppo difficile Quell'uscita Con La nostra Casella box Che è praticamente Sotto L'uscita Dei box Comunque Abbiamo ora Costruito un vantaggio Nei confronti Di coloro Che avevano montato La gomma media Perché loro avevano Probabilmente Una strategia Un solo pit stop Poi magari mi sbaglio Però non si fermano Ora Perché sarebbe Troppo presto Safety car In questo giro Safety car In questo giro Assicuriamoci Di mantenere Le gomme In temperatura E ricorda Non sorpassare Fino al momento giusto Resta in posizione Fino alle bandiere Verde Gomme un po' fredde Ancora Vado però Cauto Sono già lanciati Si sono già lanciati Non sono caldissime Le gomme Scattiamo benissimo Scattiamo benissimo Sulle clerk Ci proviamo all'interno E lo Praticamente Accompagniamo fuori P9 Senza usare DRS Senza usare Scusate Batteria Siamo scattati Benissimo E abbiamo Max Verstappen Che era davanti a tutti Almeno In griglia di partenza Ma Evidentemente ha perso qualcosa Perché ha Ricciardo Anche davanti Non so se si sia fermato Il pilota che era in vetta Almeno che era in pole position E abbiamo Mazze Pin In settima piazza Verstappen Va all'attacco Proviamo ad approfittarne Sul russo Sul russo della Haas Per infilarci qui Rischiosa la mossa Ma lo facciamo Rallentare E ora Dobbiamo usare la batteria Però Leclerc È rimasto bloccato dietro È rimasto bloccato dietro Ma ora passerà sicuramente Leclerc Pit stop Qualcuno Qualcuno ai pit Quindi saliamo in settima E davanti abbiamo anche Mick Schumacher Proviamo a puntare Verstappen Attenzione qui Dobbiamo essere Molto cauti Sul pilota Della Haas E infatti Esce male all'interno E quindi passiamo Molto facilmente Stiamo seguendo Verstappen Mamma mia Me la son vista brutta Qui in uscita In accelerazione Stavamo recuperando Tantissimo su Hamilton Verstappen Ha già preso Hamilton Che non ha ancora Effettuato il pit stop Ma sembra quasi quasi Che abbia problemi lui Mentre si ferma Norris E si ferma anche Hamilton Si fermano ora Che errore Da parte loro Quello di non fermarsi E siamo in P4 Dietro A Bottas e Perez Quindi neanche Ricciardo Si era fermato Si ferma Bottas Continua Perez Quindi forse Perez Si è fermato Ma siamo in net P3 Con 1-2 Red Bull Al momento E stiamo guadagnando Su Gazerie Non stiamo neanche Perdendo troppo Su Verstappen Quindi vi dirò Per ora Il passo c'è Bisognerà vedere Con il consumo Della gomma Come saremo Ma per ora Il passo c'è Abbiamo una strategia Alternativa A disposizione Sul DMF Va bene Va bene Jeff Per ora Perché non abbiamo Gomme medie nuove Noi Dobbiamo utilizzare Nel caso Un set usato Di medie Mentre in questo giro Perdiamo abbastanza Su Verstappen Che sta cominciando A spingere Ma Non è Niente di strano Perdiamo anche qualcosa Su Gazerie Dicevo Gomme medie usate Oppure hard nuove E questa è la scelta Per noi Presuppongo Di andare più Per le medie Perché non voglio Usare le hard Su questa pista Sto cominciando A sentire un po' Le gomme posteriori Ora Andrò a vedere Il consumo Però Mi trovo Comunque abbastanza bene Il passo c'è Il passo gara c'è È una fase Un po' di stanca Della gara Visto che comunque Stiamo perdendo Qualcosina Da Verstappen Ma non troppo Mentre Da Gasly Continuiamo a confermare Più o meno Lo stesso vantaggio Vediamo le gomme Abbiamo L'UCE Molto consumata Mentre per quanto Riguarda le gomme 26 e 29% La posteriore destra Non male comunque Le stiamo gestendo Molto bene Ci dovremo fermare Al giro 17 In teoria Probabilmente Cercheremo di portarla Avvicinando la finestra Del pick stop Monteremo gomme medie Grazie Jeff Confermo Monteremo gomme medie Visto che il consumo Non è molto alto Stiamo gestendo Benissimo La nostra gomma E penso di portare Addirittura Al giro 18 Questa gomma Per provare A fare un solo Stint Con le medie Da Circa 8 giri Sulle gomme usate Si ferma Verstappen Prima di Perez Prova l'Undercut Sul compagno di squadra La finestra Del pick stop È aperta Per noi È il momento Del pit Questo giro Si ferma anche Gasly Quindi Ci fermeremo Al giro 17 Dobbiamo spingere al massimo Per evitare l'Undercut Anche se era Quasi 4 secondi Il pilota Dell'Alfa Tauri Ma spingiamo al massimo In questo giro È stato un secondo Stint Veramente di ottimo Livello Da parte nostra Spingiamo Perfetto L'ingresso Andiamo a fermarci Con il primo settore Fucsia Andiamo a montare Le nostre medie usate Per arrivare fino in fondo Arrivano Gasly e Sainz Ma siamo davanti Hanno guadagnato Ma non troppo Un secondo Anche più di un secondo Hanno guadagnato abbastanza Se fossimo rimasti ancora fuori Avrebbero fregato Sono in lotta tra loro Però possiamo cercare di Spingere e riguadagnare Ora Abbiamo Confermato la nostra pit 3 E ricordiamolo Arriviamo in fondo Dobbiamo arrivare in fondo Abbiamo Gasly In zona DRS quasi Dobbiamo stare Molto attenti Giro veloce Per Carlo Sainz Stanno spingendo Al massimo Per il podio Troppi errorini In frenata Qui Dobbiamo Ricomporci E cercare Di riprenderci Il vantaggio Quell'Undercut Ha funzionato Da Dio Per loro Bene Sei box E Verstappen Passa avanti Ma monta la soft Perez Quindi proverà Ad essere più veloce Nelle ultime fasi di gara Anche se ha perso La track position Mentre noi abbiamo guadagnato Ben 7 decimi Su Gasly E sono in lotta Tra di loro 1.42.6 Un ottimo giro Da parte nostra Anche se adesso Perez farà Sicuramente Il giro migliore E Sainz e Gasly Riperdono Un'infinità di tempo Lottando tra di loro Che rischio Stavamo spingendo Tanto Abbiamo perso Tanto Purtroppo Lì All'uscita Dal castello Dobbiamo Continuare A spingere Fino alla fine Perché Negli ultimi Due giri Loro Spingeranno Spingeranno al massimo Infatti noi dobbiamo Cercare di spingere Ma risparmiare Anche Batteria Per le ultimissime Fasi di gara Sainz Sembra ora Veramente Velocissimo Ha già Staccato Gasly E questo Non è un buon Segnale per noi Anche se Gasly Si riavvicinerà Ora Grazie alla potenza Stiamo raggiungendo La vettura di fronte Ma dobbiamo anche Tenere d'occhio Della sua Alfa Tauri Intendevo Non stiamo raggiungendo Perez Jeff Ti stai Sbagliando Ampiamente Alcune informazioni Su Gasly Ha riscontrato Una sorta Di problema Meccanico Ok Problema Per Gasly Ecco perché Sta perdendo Così tanto Quindi Il podio Sarà una lotta Tra noi E Carlo Sainz Perez Si è preso La prima piazza In rimonta Con la gomma soft Sul compagno di squadra Ma Non possiamo Concentrarci su questo Sto spingendo Dando veramente Tutto Bandiera gialla Dietro di noi Ha perso Sainz Attenzione Problemi per Sainz Problemi Ritir Alcune informazioni Su Sainz Si sta ritirando Dalla gara Non ci credo Questa È la fortuna Che ci serviva Dopo il disastro Dell'ultima gara Gasly Con problemi Meccanici A più di 8 secondi E possiamo ora Tranquillizzarci Magari sarei riuscito Lo stesso A tenerlo dietro Ma questo Ci toglie Tutta la pressione E ora sarà L'ultimo giro In Completo Chilling Per noi Che peccato Per Sainz Che gara Che stava facendo Ma probabilmente Ha spinto Troppo Ultimo rischio Qui Andiamo a prenderla Supercauti Max Verstappen Alla fine È riuscito A vincere Su Perez Neanche me ne ero accorto Ma a noi interessa Il primo Podio Per la One in one Racing team Già la quarta gara Della sua carriera Alla sala Che guida Che stile La tua prestazione Ci ha reso felici Ci siamo Vittoria per loro In Azerbaijan Lavoro eccellente Da parte del team Sia in pista Che in fabbrica E ovviamente Un grande applauso Va fatto Al pilota Luca Filippi In cosa ritieni Si siano distinti Dagli altri In questa gara Oggi senza dubbio La Setticara Ha cambiato le carte In tavo Il segreto Del suo successo È stato mantenere La calma E reagire con prontezza In passato Abbiamo visto Team buttare via La vittoria Per un'esitazione Di trompo Mentre la determinazione Che abbiamo visto oggi Ha permesso loro Di passare in vantaggio Oggi L'ha spuntata La Red Bull Con una prestazione Di altissimo livello Negli ultimi tempi La scuderia Ha fatto l'impossibile Per tenere il passo Con gli altri team E finalmente Sta dimostrando Tutto il suo potenziale Non è stato il weekend Migliore per il leader Del campionato Che vede ridurre Il proprio vantaggio In vetta E ora vediamo E ora vediamo come Questi risultati Si riflettono Sulla classifica Piloti Passando al pilota Del giorno Luca Su chi cade La tua scelta Nicola Latifi A mio voto Di merito oggi Ora vediamo La classifica Costruttore Che il primo In classifica Frena La sua fuga Dopo un weekend Difficile E bel lavoro Anche per la scuderia Del pilota Fondatore Che dopo questo weekend Migliora la propria posizione In classifica Dopo un weekend Del genere Mi sento Euforico E stremato Insieme A risentirci Per il prossimo Gran Premio Che dire ragazzi Che weekend Per noi Partivamo In P8 Per la prima volta Q3 Per noi Grazie alla Alla qualifica Di Sainz Anzi alla penalità Di Sainz Che partiva in P17 Vi ricordo Ed è arrivato Fino all'ultimo giro Al penultimo giro A giocarsi il podio Con noi Grazie a una safety car Che ha aiutato Una determinata Fascia di piloti Sicuramente Non ha aiutato La Mercedes Che come vedete È finita fuori Dalla zona punti E entrambi I piloti fuori Dalla zona punti Scellerata La scelta Di non fermarsi Durante la safety car Ne hanno pagato Le conseguenze Ma che dire Vince Max Verstappen A sorpresa Di tre decimi Probabilmente Proprio nell'ultimo giro Nei confronti Di Sergio Perez Che si prende Il punto del giro Veloce Per noi Sono ben 15 punti Primo podio Alla quarta gara In carriera Per Alassala Poi Completano La zona punti Gasly Norris Salonsofette Leclerc Stroll E Kimi Raikkonen Su Alfa Romeo Poi Per completare invece La gradatoria Hamilton Bottas Subito fuori Dalla zona punti Come vi dicevo Latifi Da ventunesimo A tredicesimo Poi Giovinazzi Schumacher Ricciardo Russell Ocon Matsushita Purtroppo Purtroppo Completa In diciannovesima La sua gara Mazepin E poi ritirati Carlo Sainz E Yuki Tsunoda Andiamo a vedere La posizione in classifica In classifica piloti Siamo settimi Alla sale in settima posizione Quota 22 Hamilton Mantiene la vetta Quota 69 Ma Verstappen Si fa da presso Era meno 26 Va a meno 1 Quota 68 Bottas 62 Perez 52 Norris 38 Leclerc 23 Poi noi A meno 1 Dalle Clerc Quota 22 Ricciardo 16 Gasly 13 Alonso A completare La top 10 Quota 12 punti Classifica costruttori Mercedes Che rimane prima Ma vede accorciarsi Di Grandissimi Di una grandissima quantità Il distacco Perché Ha fatto il massimo Dei punti disponibili La Red Bull 25 Verstappen E 19 Sergio Perez Quindi Red Bull A meno 11 Dalla Mercedes McLaren in terza Ferrari in quarta Alfa Tauri in quinta E noi siamo in sesta Superiamo la Aston Martin E siamo a meno 1 Dalla Alfa Tauri E a meno 7 Dalla Ferrari Che risultato In questo fine settimana Possiamo tranquillamente Avanzare La rivalità Tutta a nostro vantaggio Naturalmente Più 5 Per la sala Più 2 Per Lance Stroll Andiamo a pareggiare 5 gare rimanenti Siamo 8 punti pari Mentre per quanto riguarda La fama della scuderia Saliamo al quarto Livello noi Mentre è sempre al sesto Al sesto Mazzushita Al sesto anche la nostra Scuderia Che è quasi Direi al settimo Livello Per quanto riguarda Naturalmente I premi Da parte del Nostro sponsor Highland Guadagniamo 88.500 dollari Da questa gara Abbiamo terminato Naturalmente Con questo episodio Tutto il resto Lo andremo a riprendere Prima del prossimo Gran Premio Che sarà prestissimo Il Gran Premio Del Canada Tra tre giorni Praticamente Faremo tutto Naturalmente Nel prossimo episodio Ragazzi Non posso chiedervi Altro che lasciare Un like Commentare Iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanella Per rimanere sempre Aggiornati sui nuovi Contenuti Vi è piaciuto Per forza Questo Gran Premio È il primo podio Per la sala E la sua One in one Racing Team Quindi quel mi piace Lo dovete Letteralmente Sfondare Sfondate il bottone Del mi piace Iscrivetevi anche Tutti i miei canali social Sapete già tutto Non c'è Assolutamente dubbio Su questo Quindi non vi chiedo Altro Vi invito naturalmente A dare un'occhiata Al prossimo episodio Vi do appuntamento Al prossimo episodio Il GP del Canada Per il quinto Round Della stagione Di Formula 1 Per la one in one Racing Team E per la sala Detto questo Vi ringrazio per la visione Vi saluto E alla prossima Ciao ragazzi